posto non mi bacchettare un cazzo qualche cosa tolm boss e the silverberg bond cos'è storia ma quanti cazzo di questo è la gold banded sei ancora indietro è andato tutto puttane ma c'è la ficcata la silverberg se non fosse che c'è 13 fps sarebbe tipo godibile e se non mi fassi scordato che ero senza oggetto pacco non sarei che comunque dobbiamo controllare se cade qualcuno io vorrei star contento cazzo cioè guarda che sborrata di cosa ma premuta le leve non ho premuto un cazzo non mi tartassare che sto guardando cose è una cosa figa è una cosa figa da vimbor ah vabbè ma perché va bene guardiamo le cose fighe da vimbor cos'è che devo fare hai detto si apre il fondo l'hai fatto prima tira sta cazzo di leva l'altra leva ma se no uno è cattivo qua ma che figo anche la road light cioè ha messo l'advance drawbridge si è fatto in modo che quando tu lo apri tutte queste luci si accendono se lo tiri indietro si spengono e si accendono le altre non ci posso credere veramente un genio vimbor è pazzo no no non è un pazzo è interessante quanto spesso questi tratti coincidono però è fichissimo sunken stone panel road light inverted bellissimo cazzo e qui c'è un'altra cosa cron 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 boh boh figura lo stesso poi aspetta madonna santa poi di qua c'è il coso e l'abbiamo bugato quello la che mi ha fatto prendere un infarto perchè sta cosa esplode se per mi destra cosa hai fatto esplodere max? guarda accanto che si va fa culo io mi ciuppo 64 di gunpowder tanto voglio dire a chi interessa deep storage unique con 54.000 di gold che è poco in effetti il bello è che tipo ha fatto sta roba super avanzatissima di tutte le farm possibili e immaginabili ma non ha finito il pavimento ehm no non ne ha neanche uno finito ma che cazzo signif- scusa quanto vetro ha questo uomo? tre... 153.626 normale oh mio dio non me ne ricordo ah la miseria ragazzi vendo vetro vendo vetro quante specie manca? cosa ti ricordano queste colonne? eh 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 un passato glorioso mi ricordano queste colonne io ho un passaggio segreto oddio no veramente cosa? questo cioè? ma che cazzo? buco eh però penso che se non hai il jetpack ti sfraccelli la faccia tipo ma tu non hai... guarda la minimappa guarda che buchi che hai fatto qua sotto non voglio saperlo cazzo allora questo ha finito ancora non ha finito di caricarmi sta cosa va bene direi allora che possiamo dare il benvenuto alle persone che sono su youtube hola 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 io sono max dei berrostronzo e sono qua in ts e anche nel server della geekbutter insieme a tre personaggi il primo personaggio quello che sicuramente voi conoscerete di più è il signor Mabone prego signor Mabone saluti ciao tubo gli altri che voi probabilmente non conoscerete o conoscerete di fama o perchè sono top fan di altra gente sono il signor BluePyroshock ciao a tutti e Okrama94 ciao buongiorno a tutti allora e che cazzo ci fate qui? voi allora fate finta che io sia stato un mese via dal server della geekbutterry voglio sapere voi due chi siete e che cosa ci fate all'interno del mio server allora chi inizia? non tutti insieme allora prego Okrama di prima tu allora io sono top fan di Mabone attenzione e in questo periodo sto facendo serie con alcuni personaggi della geekbutterry per cui Mabone e Carb con una serie che si chiama YoushennoCraft ho capito e il signor BluePyroshock? io sono top fan di Vimbor di Vimbor? esatto che figata dovrò anche guardare chi è il mio top fan perchè magari tipo lo trasportiamo qui dentro a forza ma quindi voi adesso c'è entrato cazzo aspetta questo qua che io ho alle spalle non è il mio jetpack tra l'altro vero? è di Vimbor ecco grazie per aver risposto all'unisono sono passato a portare ah si questo qua è il cartello di coso allora 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 torniamo a casa di Vimbor chiedo scusa ho come l'impressione che c'è qualcosa che non va che ci sia qualcosa che non vada che succede? passa la canna M gli occhiali e dove cazzo lo metto il jetpack di Vimbor scusate che io non sono pratico di questo posto allora devi andare dentro dove ti ho fatto prendere l'infarto prima dentro dove mi hai fatto prendere l'infarto prima? non lo dire qua che sennò poi lo leggono che non ho idea di che cosa ma non lo andate a vedere indietro nel video che cazzo si sono detti questi due mentecati ah 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 splat c'è tipo un tank con il gas dentro qua 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 vieni quindi se vedete la gente che lagga è perchè tipo il server di minecraft vabbè lasciamo stare questo tank qua sopra questo qua grosso con su scritto gas tank quello incarica si eee aspetta che lo mettiamo dentro dove cazzo è dove cazzo oh l'ho appena tolto eh eccolo qua bene lo lasciamo lì magari poi lo metti di sopra la prossima volta perchè sennò lo scarichi non fermare in simili piccolezze l'ho messo a scaricare dai dai che sicuramente a vimbor come cazzo scendo adesso senza frantumarmi le rotule eh? eheheh ahhh questa è un'eventualità al quale il signor vimbor non aveva pensato accidua vero signor vimbor? grazie signor vimbor fai il salto della fede porca puttana ragazzi vediamo se lì c'è un posto dove magari riesco qua 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 da quest'angolino ci arrivi basta la maniera andiamo 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 di qua oh cazzo pfff un cuore signori bene il capitano Bear Sparrow sa sempre come cavarsela ok stronzo Sparrow si sono proprio stronzo eeeh che facciamo tipo andiamo alla Dontless io devo fare dei lavori lì dentro non sei la Dontless si la Dontless mettiamola a terra si accendini accendini no vaffanculo testaccia di cazzo mamma tu dove sei fammi capire sono a casa mia qua che sto facendo uno schifo che sto facendo uno schifo beh normale aspetta che tra l'altro si stiamo provando la magia ma mi sa che c'è qualcosa che non va bancavo io una vaga impressione siete dei babbani puoi trapassare lo scudo di carb usando una bot vanilla in due modi sali sulla bot e vai avanti per la strada che porta alla cupola con l'altare della witchery oppure posizionando una barca mentre sei di spalle allo scudo salendo sulla barca e scendendo subit che penso sia un acronimo per subito ti teleporti in dietro e puoi trapassare i blocchi anonimo top fan di Mabba o cram94 ps basta la staff della Ender io ma è trup facil basta usare shift poi click destro bene queste sono informazioni che mi saranno molto utili mentre le ca... senza sabbia le ostriche non fanno perle scusa mi sono permesso di... che figata io tipo manco per un mese e la gente mi infila le cose nei buchi la chemical synthesis machine sta continuando a ciuppare energia da sto vulcano da un mese siamo a 968.000 di corrente d'accordo e non ho idea di quanto cazzo gli succeda ding dong intanto così vediamo qua se... click destro con la bacchetta si non ce ne frega un cazzo facciamo una bella cosa io adesso devo fare i libri della... come cazzo si chiamano? della Mistcraft per collegare questo posto alla Dontless in maniera tale da non dovermi fare il viaggio in barca tutto il tempo perchè mi rompo i coglioni giusto? grazie si giusto giusto come cazzo si attiva la Ney di nuovo? l'ho tolta tipo con la O O O di Miki O di Miki O di Miki la O di O crama vediamo se è vero si infatti allora e... mist... cr... dai caricati signora Ney perfetto e io devo fare la blank page giusto? blank page come si fa la blank page? blank page blank page forse bisogna avere la writing desk insomma datemi 30 secondi che mi informo su come cazzo funziona sta mod e torno eh? aspetta ma mi state pigliando per il culo no qua questo qua qui si sopra qua qua dietro qui sploff eh ciao cos'è? ordo acqua eh? no perdizio acqua vabbè non voglio sapere ma veramente fammi vedere fammi vedere se hai ragione si cazzo non lo vedo ah si non ci posso credere mi sono portato dietro un aura node con l'elma si ma che stronzata è? ma ho fatto delle cazzo di scusate un attimo ma avevo fatto delle ricerche super costose sto cazzo nella towncraft per portarsi dietro e alla fine la perla nera te l'ho detto che c'è la perla nera cazzo ok ah due perle nere si minchia ragazzi e mettigli la sabbia si adesso aspetta adesso ti culo con la sabbia però fammi prima metter via le perle madonna solamente un intralink si devono trovare il modo di riciclare l'ink panel non posso tipo ah altre cose vediamo se stavolta è una volta buona qua c'è un altro ink vial si si ottimo click sploff splash splow aspetta merda non ho più le perle vediamo un po' si ne ho ancora in effetti sploff volerei l'inchiostro con la ficca rossa eccolo qui vediamo un po' scoop no cos'è link panel di merda di nuovo rifacciamo vediamo e mettiamo dentro la carta e plot intralink intralink si finalmente ok adesso come si fa chi è che ne sa più di voi due così non mi date consigli a cazzo va bene lasciamo stare cosa devo fare? devo attaccarlo con la pelle queste cazzo di link panel intralinking qui 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 cosa qui dove salto io girati è l'altro ah ma porca non so ancora distinguere le vostre voci cazzo si cosa devo fare? devo buttare dentro il bookbinder eh mettilo eh si scusa dove c'è la pelle lo vedi? mettilo dall'altro lato dove c'è la pelle mettilo dall'altro lato ecco qua block eh non posso eh mettilo nel quadro dentro la cazzo ecco questa indicazione è la tua ho messi due di intralinking tra l'altro ah eccolo qua descriptive book one way ticket e anche un altro che però adesso non sono ancora fatti ok adesso stai calmo adesso sto molto calmo prendi uno e prova a cliccare e prova a fare destro boom age 3 Raiden no no che succede? lo devi mettere nella tua crafting table cioè mettitela in quello personale che te lo trasforma in uno verde e invece non è vero ehm qualcosa è andato storto ecco aspetta age 3 Raiden ma aspetta ma non è questo eh già quindi qual'è il problema? come devo fare? ma cosa è andato? la carta normale ecco qua la carta normale ecco qua la carta normale ecco qua la carta normale ecco esiste un utente di Barrofronzo che non sia terrone? no? seriamente? no non lo so non credo pensiamo che sia sono tutti da Napoli o dei Bari o di non so che cazzo e dove siete voi due stronzi? ditemi di dove siete Foggia uno è di Foggia e tu di dove sei? è lato Sicilia sicilia e Foggia mentre Foggia e dove cazzo è Foggia? Foggia coee mi sa che ho preso una versione diverso da questa càazzo io non ti ho detto niente dell'Ender Pearl ah quella è toto crama ma non ti preoccupi ma Ender Pearl va bene perchè dovevo fare gli intralinking però dovevo anche capire come cazzo usarli tipo quindi la mia meta di consiglio è sua giusta ci sentiamo tra 30 secondi io ti ho fatto fare il bookbeater è giusto poi ahah vedo vedo ahahahahah tu non li puoi schiacciare ok ma che cazzo chi abbiamo perso? okra ma okra ma dove ti trovi? sta ancora caricando il mondo allora vi spiego relativamente in breve cosa è successo tipo stavo tentando di trovare un rimedio a quello che abbiamo appena fatto ho buttato il libro in avanti insieme a un sacco di altra roba okra ma ha raccolto tutto però ha premuto col destro per sbaglio sul libro e ci è finito dentro solo che lui ci è finito senza il libro del ritorno senza book stand e soprattutto si è portato dietro il libro quindi io non ho idea di come cazzo faremo a riportarlo indietro ah il libro ce l'abbiamo il libro ce l'hai tu e quindi dobbiamo si fare il libro per tornare ci andiamo e lo andiamo a prendere ma porca puttana ma veramente ma non si può fare una puntata tranquilla dove dicono boh va bene come si fa un blinking un blinking book non lo so è mezz'ora che ci stiamo provando porca puttana c'hai neanche un book per tornare indietro è endocrine sono crashato ahahahahahahah che brutta la miseria che brutte cose vi aggiorniamo quando abbiamo qualcosa di decente da farvi vedere ma che cazzo mi svuoto perchè ho tutte le cose di mappa quindi ma se vuoi vado io tanto ho sicuramente molta meno roba di te è sempre il problema che se tipo tu rimani bloccato qui tu hai un problema ma chi se ne fote dai insomma sarà no no vado io vado io vado io no non ti sacrificare addio ragazzi no aspetta ma no ma l'hai linkato qui almeno questo cazzo di libro si l'ho linkato si bene e hai aspetta hai lo coglione hai lo stand per andare dall'altra parte no lo stavo per fare ecco aspetta eccolo qua to te ne do due io to dietro i te ecco ok madonna quanto cazzo hai i lag fammeli prendere eh non lo spassarai te che ci f*** pensavi di aver visto le versioni più video del mondo eh invece no ma puttana miseria sti top fan del cazzo io spero che il mio top fan sia coglione la metà di voi perchè altrimenti ma dai più di un milione di energia io sta che mica in sintetizer deve essere buggata giro a jolly di aggiornarla cazzo mi sto giucciando l'energia dal vulcano da prima del trasferimento dai blue pyro assaggia il tuo coraggio eh no ma sai cos'è sono i cavi della mecha writer sono andato ma hai il max si addio signor capitano che cazzo io sono a coordinate 0 0 0 0 0 0 oh cramma vieni qua oh cramma oh cramma sei un coglione non eri nell'age 3 ma nell'age 2 perchè io non ti vedo hai pure sbagliato sei un bobeo l'ho detto che non ti vedo ma quindi non sei neanche in cage sei finito praticamente ho 2 o 3 quindi nel 3 ci sono appena andato e nel 3 non c'era sono tornato sono tornato sei uscito in denne ma che cosa c'è là dentro scusa fammi capire e no è carino come mondo è un mondo è un mondo è tutto questo che noi stiamo creando mondi a cazzo quindi vuol dire che jolly appena vedrà questo episodio gli verrà tipo la sincope perchè gli stiamo appesantendo il server in una maniera allucinante vabbè li cancello è colpa di ocramma è colpa di ocramma ok no quindi adesso devi sostituire il libro beh puoi utilizzare lo stesso linking book di prima in teoria no? lo devi fare un altro eh no l'ho lasciato la purtroppo che meraviglia non me lo potevo portare non ti preoccupare dammi un altro book stand un altro book stand un altro book stand non ce l'ho adesso aspetta che lo faccio andiamo fallo 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 faccilo allora mettiamo ping poi metti un pezzetto di legno in mezzo un pezzetto di legno in mezzo un pezzetto di legno in mezzo mezzo pezzetto di legno pezzo ce l'ha un pezzetto di legno ma porco il ciocco il ciocco di legno perchè avete messo il ci sono dei pesci messi a seccare qui uo uo pescione uo uo pescione uo pescione che puntata cazzona ma la gente dovrebbe pagarmi addio come sto andando perchè sembra che ho già rivissuto questa questa okramma sei un coglione andiamo torniamo a casa okramma okramma con la sua mamma noo okramma si è ritornato indietro okramma c'è la terra bruciata è carino sto mondo max vieni va bene va bene io sono cioè non ho preso il ca okramma ah oh mio dio è bellissimo che cazzo è guarda quanto gas sta volando guarda guarda in alto vedo è abbastanza in effetti anche perchè stanno bruciando le cose eh si ah siamo in un mondo com'è la come si fa m di no eh c di sto mondo mi piace relativamente poco c'è un cazzo di bioma di alberi accanto a uno infuocato cosa può andare storto non lo so cioè tutto questo perchè io volevo fare un cazzo di libro che mi portasse dalla nave a casa veramente e sai come si fa? eh basta prendere un pezzo di pelle si prendere lì lì ma no perchè nella stessa dimensione deve essere un intralinking fidati di me eh si eh prendi un intralinking eh ma li ho usati tutti e due gli intralinking eh lo so bisogna rifarli mi sa a posto di metterli in quel cosmo strano dove si fanno le blank cose te li fai nella tua crafting e te li butti dentro e ti facevi il cosmo cioè semplicemente eh come si chiama? sbagliato lo slot dove mettere i libri esatto nella nostra crafting a posto di quella di quel cosmo la vita è qualcosa di merdosissimo io dovevo partire con qualcosa di no dove cazzo è? devo ritornare indietro adesso qui 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 prima che rimanga in questo mondo dimenticato da dio e dagli uomini per tutta la vita dagli uomini pesce andiamo ok ma sei un coglione aiuto aiuto a tra poco ok proviamo a vedere ultimi tentativi perché poi devo appunto andare a lavorare allora uno bing niente link panel normale le perle le perle si le ho messe le ho messe prima le avevo messe vediamo dove diventiamo oh eccolo qua pa per dentro bing link panel normale vaffanculo porco e ultima dai ok e vaffanculo sempre link panel normale andiamo nel nether no non ci voglio andare nel nether mi rifiuto di andare nel nether va bene per oggi hai vinto tu schifo di dio di cosa maledizione per i sabling andremo anche a vedere dei sabli vabbè sentite io mi sono anche rotto il cazzo facciamo così adesso andremo avanti tipo in eterno fino a quando effettivamente non completeremo questa cosa e probabilmente vi farò come si dice assistere all'intra linking di sta merda di dauntless momento nel cui potrò finalmente fare qualche cosa di decente lì dentro inizierò la minecam inizierò la towncraft inizierò non lo so che cosa perché dovremmo vedere però voglio fare qualcosa di figo su quella nave probabilmente da questo episodio in poi cominceranno a moltiplicarsi gli episodi della pirate craft non tanto perché effettivamente minecraft faccia più ascolti ma perché uno quella la di world of warcraft praticamente non la seguo più e gli altri probabilmente se lo sono disinstallato e due per il semplice fatto che io devo recuperare il tempo perduto sono non so alla puntata 12 13 14 di questo cazzo di serie e devo e c'è gente che è arrivato alla 30 quindi effettivamente devo fare qualche cosa bene comunque sia ringraziamo il signor okrama e il signor blue pyroshock per il loro prezioso contributo e tra l'altro con questa puntata e probabilmente si vi 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 invito a spammare come degli indemoniati per quanto riguarda praticamente vari commenti cose eccetera eccetera o anche no fatto sta che comunque sia se questa puntata esce il 14 allora io ho il 15 faccio il video dove tra virgolette strago fuori il cazzo di top fan o il top fan adesso vediamo se ne faccio entrare 1 2 3 14 vediamo ma penso 1 per non far troppo casino e di maniera tale che praticamente possono venire qua divertirsi e fare altre cagate nel frattempo appunto ringraziamo il signor okrama ciao è il signor blue pyroshock ciao questi due stronzoni tra l'altro tanto per cambiare c'hanno un canale di youtube allora se voi volete andare a vedere che cazzo fanno nel loro canale youtube che io non lo so perché tipo me lo daranno io lo metterò in descrizione e guarderò il video il loro canale insieme a voi facciamo una serie con mamma fate tutti e due una serie con mamma si 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 ah ok allora sti cazzi va bene e comunque insomma io ve li lascio in descrizione insieme a quelli di tutti quanti quelli della geek battery nel frattempo per quanto mi riguarda null'altro è rimasto da dire quindi da questi due cazzoni che mi hanno fatto veramente penare l'inferno e da tutta quanta la geek battery che in questo momento si sta grattando i maroni ma spero che torneremo tutti insieme a registrare adios a todos figlio ti sti fottutissimi sapling no che cazzo intraliiiiki ho fatto il secondo intraliiiiki ah ce l'hai ok si adesso ce l'ho l'intralinghi dimmi come cazzo si fa devo metterlo solo nella crafting te li stai mangiando fermati ah già sono crudi niente di sta merda di polli dammene uno cotto guarda prendi questa palla prendi questa palla a pelle figlio prendo questa palla dai tirati su ok si poi mettitelo pelle e link in crafting e mi viene un linked in link book ne faccio tutte e due e uno lo metto qua cliccaci col destro mentre ce l'hai in mano diventa verde solamente su uno si uno so e l'altro lo metto nella dauntless giusto? esatti quindi bam questo qua l'ho linkato vimbor a bordo vimbor a bordo vimbor a bordo vimbor a bordo ok la dauntless è tipo lontanissima avete un book stand eh però il legno non ci manca ma si chi se ne frega tanto tipo nella stiva c'è una quantità di legno indefinibile come si fa? non vi preoccupi vabbè tipo due stecchetti e una cosa sotto porca puttana la puntata più lunga della mia vita o? io sono caduto dalla nave hai fatto benissimo cazzo ma tutti e due probabilmente sarete caduti c'è tanto di quel lag che il problema è che sono frizzato quindi adesso a volte tipo la vostra cosa la vostra iconcina mi viene all'interno della mappa che adesso è un'intera distesa blu più larga del buco del culo di carb esatto dove tipo c'è un traffico piuttosto elevato ci sono i semafori le cose traffico dato eccoci qua dauntless 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 dove sei finita barchetta mia piccolina piccolina non premere shift subito mi sono disintegrato contro la dauntless ok shift a nuoto vediamo se riusciamo cazzo a chiudere questa puntata in gloria eh 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 ma sei di nuovo registrando certo che sto di nuovo registrando avevi qualche dubbio dopo che ho fatto l'intralinking ma è normale conoscilo sappilo no vieni qua sopra metti il bookstand qui sopra lo voglio qui lo voglio il bookstand ma guarda c'è una crafting eh si ma non ha ben legno appunto ma metti il bookstand ma non ha ben legno eccolo qua no ho appena fatto non so che cazzo avevi fatto e c'è un ragno che ti vuole in cuore un bookstand splat del bookstand metto il aspetta il linking book già fatto si e adesso linkalo prima ah no aspetta si linko l'altro metto dentro overworld si e qui metto questo metto questo si 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 sono felice come un bambino puttana miseria adesso posso andare al lavoro felice cazzo adesso servirò i piatti con proprio siiii sono felici così benissimo che bello questo cameriere così sul leggo che è successo? si e che c'ho l'incadrata oltre what the fuck e gli sfascio il piatto sulla faccia aspetta guarda il finale il finale con i boss ti vieni vicino a me va bene vieni vicino a te vai che stupido mi vengono neanche le particelle tra l'altro tipo siete sospesi nel vuoto e basta perchè laggo troppo bene ma forse ce le hai disattivate tu che ficata signori posso anche togliere via effettivamente il punto di rotta perchè tanto c'ho che bello finalmente c'ho il linking sulla Dauntless bene possiamo anche ammazzare il primo zombie da quando siamo all'interno della Dauntless linkata tu 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 bene splat grazie per questa coppinata con il taglio della spada puttana miseria che bella la Dauntless quando sorge la luna però eh